La notizia, la fame di infermiere che c'è in tutta Italia, che hanno i nostri ospedali, cui le regioni non corrispondono purtroppo, bandendo concorsi per nuovi professionisti sanitari, con il risultato di causare una pressione enorme sugli operatori disponibili che sono sotto stress, costretti a turni assurdi e senza rotazione. Discorso opposto per i medici, secondo sempre il rapporto del CREA, il Centro per la Ricerca di Economia Applicata in Sanità, in collaborazione con FNOPI, eccolo qui vedete la copertina del rapporto che potete leggere tutti su internet, la Federazione Nazionale Ordini e Professioni Infermieristiche. Da questo rapporto emerge una situazione diversa da quella che ci viene sempre descritta, cioè con i medici in cima alle graduatorie europee. Dal 2018 operano in Italia 4 o più di 4 medici per mille abitanti, contro i 3,17 in Francia e i 2,84 nel Regno Unito. La Spagna invece ha un valore simile all'Italia, 4, mentre in Germania si registrano 4,3 medici per mille abitanti. All'opposto il fenomeno del personale infermieristico attivo per il quale nel nostro Paese si registra un tasso molto inferiore alla media europea. Nel 2018 in Italia operavano 5 infermieri, virgola 5 per mille abitanti, contro i 7,8 pensate del Regno Unito, i 10,8 della Francia e addirittura i 13 infermieri, virgola 2 della Germania per mille abitanti. Anche qui solo la Spagna si attesta a un tasso simile al nostro, pari a 5,8 ogni mille abitanti. Il rapporto prosegue sottolineando che in assoluto, paragonando la situazione italiana alle medie europee, il surplus di medici si traduce in un'eccedenza di quasi 29 mila medici, mentre il gap di infermieri in una carenza che oscilla tra 60 mila e 100 mila infermieri, c'è che addirittura chi dice a 300 mila in quanto c'è in discussione la sostituzione dell'intero pacchetto infermieristico in italiano che è pari a circa 300 mila unità. Una situazione catastrofica, sembra prioritaria e urgente l'esigenza di intervenire in modo deciso sugli ingressi del personale infermieristico di gran lunga sottodimensionato, volendo provare a colmare il gap, lo Stato e le Regioni dovranno preventivare una maggiore spesa sul corso del personale, ma dovranno anche sincerarsi che la capacità produttiva degli Atenei sia in linea con tale obiettivo e qui il discorso si aggancia al numero chiuso che molti di noi contestano, un numero chiuso che è assurdo, che è sproporzionato, che non è rapportato in relazione poi alle esigenze di personale da mettere in circolazione. Grazie a tutti!